Buongiorno Silvia, stiamo cercando di capire come ci fa ad arrivare al Mondo Convenienza sulla via Aurelia, con che mezzo pubblico ci si può arrivare. Lei ha un'idea? Deve chiamare i scambisciosi alti signora, 039 1515. Sì, complimenti, ho appena finito di parlare, da un quarto d'ora ne hanno risposto prima da Tirana, poi da Firenze, hanno fatto tutte le ricerche. Nel vecchio sito di Mondo Convenienza esisteva la notizia, adesso non c'è più, non l'abbiamo. E non sanno come fare. Senta un po', ma non c'è la possibilità, invece di andare da Ikea, di parlare per telefono con qualcuno responsabile di via Aurelia? No, un responsabile è per che cosa, signora? Mi scusi. No, mi scusi, io la sto registrando la telefonata. Mi sembra di essere stato chiaro. Sto dicendo per sapere qual è il mezzo che arriva al vostro o al loro, non so voi se siete di Mondo Convenienza, al centro commerciale. Allora, io non le so dire esattamente qual è il mezzo per arrivare al centro commerciale. Ho capito, ma c'è la possibilità di parlare con qualcuno di Mondo Convenienza sulla via Aurelia? Ma è assurdo, è assurdo. Io ne, mi scusi, le posso fare una ricerca su Google Maps, signore? Le posso dire i mezzi che passano? No, no, guarda, lo mandiamo adesso all'Ikea, va. Comunque, grazie, arrivederci. Grazie a tutti.